я però la guida ce lo poteva pure dire e questa è che bisogna rimanere su quello e le grandi francesi come è passato? giusto. da qui siamo arrivati con la sfida no, come ha fatto? no, io faccio Ciao bellissimi, che bello, ma che bello, bravo che c'è avuto la vita, bravo, bravo, bravo 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 si è heri sagrada famiglia si è heri sagrada famiglia si è heri sagrada si è heri sagrada famiglia 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 si è heri sagrada famiglia